Gentili telespettatori, buona giornata. Berlusconi torna ad attaccare Giorgia Meloni. Era tornato in ombra, poteva starci, invece no. Deve dimostrare che lui e lui e gli altri non sono nessuno. E così Berlusconi all'improvviso salta fuori dalla penombra e dice sono in campo per ottenere risultati, anche se non sono nelle corde dei nostri alleati. Quindi lui vuole ottenere risultati, mentre la Meloni e l'altro non vogliono ottenere risultati o non hanno le capacità, secondo quello che dice Berlusconi. E inaugura una nuova sede, dice ripartiamo da qui per riconquistare il paese. E per la legge di bilancio vuole facilitazioni edilizie. Puntiamo a un milione di posti di lavoro. E' tornato al milione di posti di lavoro, ma ve lo ricordavate negli anni 90? Il milione di posti di lavoro. Poi nel 2022 ha proposto un milione di alberi. Quando una grillina al ministero dice Scusi Cavaliere, guardi che nel PNRR sono previsti 6 milioni di alberi in Italia e lei ne propone uno. Una figura! Berlusconi non sapeva neanche di cosa stesse parlando. Gli è venuto in mente la cifra un milione. Dice che facciamo con un milione? Un milione di alberi. E lui continua dicendo Metteremo in campo il meglio di noi per riuscire a ottenere queste cose anche se magari non sono nelle corde dei nostri alleati. Dichiarazioni che suonano come un alto là rispetto a Fratelli d'Italia e Lega. Dice Lui, io ho degli obiettivi per creare un milione di posti di lavoro. Ma dai! E quali sono questi obiettivi? Dimmi Silvio, voglio valutarli con attenzione. Una delle mie idee riguarda i giovani. Bene. Se per un periodo di tre anni, quattro o cinque anni dovessimo favorire le imprese dicendo loro ti togliamo ogni tassa tutto ciò che ti costa un lavoratore in più rispetto allo stipendio. Come come ti togliamo ogni tassa tutto ciò che ti costa un lavoratore in più rispetto allo stipendio? Ah, quindi, se ho capito bene per tre, quattro, cinque anni assumi una persona e non paghi le tasse su questa persona. In modo che lo stipendio che darai ai giovani dei 18 ai 34 anni sia uguali ai tuoi costi. Questo significa che le aziende avranno una grande convenienza ad assumere i giovani. Esatto! Come diceva lo Zampetti. Esatto! Silvio! Ma sai cosa succede? Te lo posso dire? Io che ho lavorato 15 anni in aziende ed ero così con i proprietari come dirigente cosa succede in questi casi? Tu assumi giovani e non paghi tasse che fai? Cercherai di licenziare tutti quelli che puoi no? Tutti quelli che hanno più di 34 anni cercherai di combinarli di tutti i colori per indurli ad andare via o cercare di licenziarli per assumere giovani con cui non paghi le tasse. Quindi questo non è che ti crea tanti posti di lavoro questo ti crea un ricambio che le aziende cominceranno ad assumere solo persone dai 18 ai 34 meglio se questa roba vale per 5 anni ti assumo a 29 così da 29 a 34 anni io non pago tasse. Quindi naturalmente negli annunci non ci sarà scritto cercasi 29enne ci sarà scritto cercasi persona poi quando arrivano i curriculum vengono scartati e vengono presi solo quelli che hanno una certa età per non pagare le tasse anzi spera e cercando in tutti i modi di cacciare tutti quelli che hanno più di 34 anni e dai non raccontiamoci le balle questo io ho lavorato 15 anni come dirigente 15 anni per fortuna non più per fortuna perché vabbè ve l'ho raccontato tante volte quindi ha ragione Silvio avranno una grande convenienza ad assumere i giovani e a mandar via quelli che sono meno giovani grande Silvio questa è bellissima fenomenale bravissimo ma poi chiede di inserire una manovra una corposa facilitazione urbanistica e commerciale eliminare le autorizzazioni preventive per chi vuole realizzare una casa tu vuoi farti una casa alla rotonda la costruisci lì via tutte le autorizzazioni tu arrivi con una pala da qualche parte e cominci a scavare per farti la casa facilitazioni eliminare le autorizzazioni preventive per chi vuole realizzare una casa ristrutturarla aprire una farmacia o un ristorante dice con questa norma chi vuole realizzare queste cose potrà mandare una lettera raccomandata al comune e il giorno dopo comincia a lavorare tu oggi questa mattina alle 9 fai una raccomandata e poi domani mattina alle 9 ti presenti già con le ruspe e stai costruendo la tua farmacia perché tu al comune gliel'hai già detto lì c'era e lì era una zona archeologica tutelata dei beni tu stai già con le ruspe costruendoti la farmacia bravo bravo Silvio queste idee sono geniali come mai non le hai avute prima come mai veramente veramente number one number one è così ad ascoltare queste cose c'era Marta Fascina lì c'era Ronzulli Alessandro Cattaneo capigruppo senato e camera dice questa non è solo l'inaugurazione di una sede di Forza Italia ma è un fatto simbolico da cui vogliamo ripartire per conquistare tutta l'Italia sì certo il numero uno di Forza Italia lancia poi la corsa alle regionali senza però parlare di Attilio Fontana della Lega governatore uscente dice i lombardi lombardi ne sono sicuro sceglieranno la nostra efficienza concreta e serietà soprattutto con il valore che sostiene tutti che è la libertà beh alla fine di questo video ci vuole un grande applauso per il Cavaliere senza tempo le sue proposte sono eccezionali raccomandata e domani cominci a costruirti la farmacia dove vuoi e poi soprattutto fino a 34 anni se assumi fino a 34 anni non paghi le tasse eh tutti quelli che erano da 34 anni in su dove l'azienda paga un sacco di tasse non sono più convenienti eh Silviuccio però è un'idea geniale porterà un milione di posti di lavoro facciamo due milioni e poi ci aggiungiamo che con ogni milione di posti di lavoro c'è in regalo un albero di Natale un milione di posti di lavoro e un milione di alberi di Natale eh e anche un bel panettum il panettum eh de Milan bravo Silvio sei veramente il massimo è proprio una leggenda vivente è proprio una leggenda Silvio lei è una leggenda come diceva Cornacchione l'ha fatto per noi è scese in campo arrivederci e grazie e grazie a tutti